I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Gallipoli hanno notificato al titolare di uno stabilimento balneare della città Bella il provvedimento ex articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che sospende l'attività di somministrazione di bevande e alimenti dalle 17 fino ad orario di chiusura per la durata di 15 giorni. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dei fatti avvenuti la sera del 3 agosto quando alcune pattuglie del reparto prevenzione crimine di servizio di controllo del territorio transitando nelle vicinanze del litorale sono state allertate da un passante per una rissa in corso all'interno dello stabilimento. In seguito alla colluttazione avvenuta tra alcuni giovani veneti e un gruppo di salentini sono stati successivamente denunciati in stato di libertà una 22enne di Saunara incensurata, un 27enne di Padova ricorso alle cure del locale pronto soccorso e un 29enne di Campo San Pietro. I primi due sono stati destinatari della misura di prevenzione del Dacur, da alcuni video registrati al momento della rissa infine ed acquisiti agli atti gli investigatori hanno accertato altresì la responsabilità di 5 addetti alla sicurezza del locale della Baia Verde, anch'essi denunciati per rissa. La misura di natura amministrativa specificano dalla questura non ha finalità punitiva nei confronti del gestore ma è finalizzata affinché non si verifichino nuovamente situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.